Perché un imprenditore che lavora in un settore tradizionale, la meccanica, dicevo un imprenditore come me, è interessato al progetto di Faber Lab? Perché mi sono accorto che oggi è importante coniugare la tradizione, i lavori tradizionali con l'innovazione, quindi con il confrontarsi con le nuove tecnologie, con i social network e con tutto quanto viene proposto da un mondo che sta evolvendo. E' per questo che invito tutti gli imprenditori, sia che lavorino in settori innovativi, ma anche che lavorino in settori assolutamente tradizionali, a partecipare a questo progetto, perché sono sicuro che ne trarranno un beneficio sia culturale che imprenditoriale.